Lo stato di abbandono in cui versa la sanità lucana è oramai sotto gli occhi di tutti. È la denuncia del capogruppo del PD Roberto Cifarelli che evidenzia uno degli ultimi episodi riguardanti l'ospedale San Carlo di Potenza e in particolare l'unità operativa di urologia. Qui dice le visite e gli esami strumentali procedono a singhiozzo e con grave ritardo a causa della mancanza di un ecografo funzionante. Cifarelli sulla questione ha presentato un'interrogazione al presidente della regione e all'assessore alla sanità per conoscere lo stato dell'arte dei servizi offerti dall'unità operativa di urologia del San Carlo di Potenza e per sapere a quale step procedimentale si è giunti circa l'acquisto e l'utilizzo dell'ecografo. Il capogruppo del PD chiede anche di verificare come mai la circolazione delle informazioni non è congruente tra azienda ospedaliera e CUP, con il conseguente disorientamento dei cittadini, pazienti e personale medico. Domande chiare ed inequivocabili che, conclude Cifarelli, esigono risposte altrettanto chiare per il rispetto che si deve agli operatori sanitari e a tutti i cittadini lucani che chiedono servizi di cura e salute efficienti e di qualità. Cifarelli, esigono risposte altrettanto chiare